PORACHINO PAPAIA, PARA TU! BANANAAAAA! BASTA! Sentite, io questi non li capisco! Sul serio non li capisco! Ma che è successo? Che andiamo, Steve! Steve! Stai scherzando? Non dico stai scherzando, spero! No, non sto scherzando! Credi che tutto questo mi piaccia, Steve? Io ho studiato gli Hector Studios, io! E sai quanto mi pagano per stare in zessette centimeri cubici di fedido spandex giallo, Steve? Una miseria! Steve! Ehi, Steve! Che c'è? PAPAIA! AHHHHH!